Adesso c'è il derby Simone. Sì, lo so che c'è il derby. Una partita da favorito in qualche modo? No, nel derby non si parte da favorito, il derby è sempre una partita molto particolare, loro è vero vengono da un momento non felicissimo, però come ti dicevo prima sono partite in cui entrano in ballo altre situazioni oltre quelle tecniche. Noi cercheremo di lavorare nei migliori dei modi durante la settimana per fare lo stesso risultato dell'andata. Ci speravate nel passo passo, il mondo del Genova o della Torrentina? Voi neanche un po' a gufare? Io sinceramente ero sicuro nella vittoria della Regina, però così non è stato, non sono bravo a gufare. Più che altro ci speravo perché sono molto legato a quella squadra. Si fa un po' in salita la strada per il quarto posto con questi due successi esterni? Ma sai, si accorciano le partite, la distanza rimane sempre tale, è più difficile però, come ce l'abbiamo noi le partite difficili ce l'hanno anche loro, non c'è da dimenticarsi che dobbiamo andare a Firenze, quindi abbiamo anche lo scontro diretto dove comunque possiamo giocarci le nostre carte e poi sperare che tra Sampdoria, Juve e Lazio riescano a fargli perdere qualche punto.